benvenuti alla video recensione della diadora twin un ellittica appartenente ad una fascia di prezzo medio bassa come vedremo in seguito questo è un buon modello che può essere utilizzato per tenersi in forma nella comodità di casa se dopo aver visto questo video foste interessati ad acquistare la diadora twin nella descrizione trovate il link all'offerta il primo fattore che andiamo ad analizzare riguarda le opzioni di allenamento questo modello è dotato di 21 programmi preimpostati di cui 12 di resistenza 1 watt costanti 3 target 4 hrc per mantenere le pulsazioni costanti e un utente personalizzabile la falcata risulta fluida tuttavia durante gli allenamenti intensi non mantiene una buona stabilità e tende ad oscillare un po i livelli di resistenza sono 32 un numero molto alto tuttavia anche il livello più alto non offre una resistenza particolarmente elevata il display è lcd e retroilluminato inoltre permette di monitorare la resistenza impostata il tempo la velocità la distanza le calorie la frequenza cardiaca e i watt l'ellittica ha due manubri uno mobile e uno fisso su quello fisso si trovano dei sensori palmari che rilevano il battito e al termine dell'allenamento si può usare la funzione recovery per monitorare il ritorno ad una frequenza cardiaca normale inoltre sul telaio della diadora twin troverete un comodo porta borraccia le pedane dove poggiano i piedi sono molto ampie e possono essere regolate tramite le manopole che vedete in video ora vediamo insieme gli elementi più importanti a livello logistico la diadora twin pesa 43 kg quindi un peso contenuto che rende il trasporto semplice inoltre sulla pedana anteriore sono presenti due ruote per il trasporto durante gli spostamenti si deve fare attenzione a non urtare altri oggetti con la parte più alta del manubrio il test che abbiamo svolto ci porta a ritenere la diadora twin un buon prodotto soprattutto in relazione al suo prezzo non è di certo un prodotto professionale adatto ad allenamenti intensi tuttavia può essere molto utile per chi vuole fare attività fisica e tenersi in forma a casa grazie per aver seguito questa video recensione e alla prossima